bello a tutti raga e benvenuti in questo nuovo video mi vedete di nuovo in questa postazione perché in poche parole è l'unico posto dove posso permettermi di registrare seppur con qualche giorno di ritardo vi parlo a causa di motivi legati alla scuola e altre cose extrascolastiche ho potuto registrare la partita ma le mie considerazioni su Napoli-Inter solamente qualche giorno dopo però dalla serie è meglio tardi che mai basta queste premesse inutili con cui sicuramente schipperete e parliamo della partita Napoli-Inter termina 0-0 una partita che a mio parere è stata alla pari perché diciamo che ci sono stati alcuni episodi in cui l'Inter è stata pericolosa nello stesso tempo anche il Napoli, il Napoli soprattutto nel primo tempo dove ha costruito molto e ha cercato diverse volte il gol ma diciamo che l'Inter è riuscita a chiudersi molto bene in divise per tutta la partita e allo stesso tempo in qualche occasione si è dimostrata pericolosa e su qualche contropiede mentre l'Inter mi piaceva molto di più nella prima parte del secondo tempo dove sfruttando la poca energia del Napoli dopo la partita col City ha battuto sul piano fisico il Napoli l'Inter è stato molto pericoloso in diverse occasioni soprattutto uno di Borcavalero dove con un tiro al volo non di grande potenza ha messo in serio pericolato il risale del Napoli anche se Rina non si è fatto trovare impreparato su quella conclusione e una non mi ricordo che mi sembra i Cardi non mi ricordo l'Inter stava seriamente rischiando la rete ma grazie all'intervento di Tesalbiol sulla linea siamo riusciti a evitare il gol dell'Inter del Napoli il Napoli a livello di possesso palle di gioco ha fatto meglio dell'Inter l'Inter in due occasioni è stata pericolosissima però il Napoli ha amministrato leggermente meglio la partita i migliori del Napoli a mio parere sono stati i culibali albiolle che hanno giocato un'ottima partita sul piano difensivo il centrocampo non è stato proprio perfetto però è stato un centrocampo che è andato al di sopra della sufficienza sembra anzi che ha giocato un'ottima partita Giorginho una partita una partita sufficiente Allan invece le sue solite partite che in questo momento il centrocampista più in forma del Napoli sia per rendimento sia per sia per numero di gole di assist mentre l'attacco del Napoli mi insegna non è che non mi ha convinto molto l'attacco del Napoli perché Callecon non si è mai fatto trovare pericoloso Mertens non è mai riuscito a trovare il tiro in signe era evidentissimo che era stanco e non al 100% dopo la partita con il City si esercino così ma sta felpa dell'Inter invece mi piaciuto molto la difesa soprattutto con Skriniar e Miranda che sono stati pericolosi sono stati delle vere seracinesche per i giocatori del Napoli che molto spesso sull'ultima azione non riuscivano a trovare la conclusione finale però i complimenti all'Inter non vanno solo alla difesa e a Andanovic che ha fatto una partita della Madonna ma è stato anche Spalletti che ha saputo far scendere in campo bene l'Inter farla giocare come sa farla scendere a giocare come sa e ottenendo punti preziosi questa è una delle caratteristiche dell'Inter di questo inizio di stagione che ci sono partite in cui gioca benissimo e vince largamente contro alcune squadre ma ci sono altre partite che l'Inter non brilla dal punto di vista del gioco però i giocatori sono messi bene in campo e scendono con l'atteggiamento giusto e spesso con l'unica occasione che gli capita a tiro l'Inter riesce a vincere la partita non si parla di culo perché per me diciamo che il culo, la fortuna, il fato, il destino fa arriverà l'Inter non è che dura sempre e sempre cioè non è che dura per diverse partite di fila perché se è così prima o poi questa fortuna svanirà è solo che l'Inter è cinica sa sfruttare le casimiche che le capita e poi c'è anche dei buoni giocatori cioè l'Inter non stiamo parlando di una squadra di scarsi anche l'anno scorso l'Inter era un'ottima squadra però è arrivata male in una pessima posizione in campionato a tanti giocatori di livello come Andanovic, Miranda, Skrignal che si sta rivelando un difensore sempre più forte, il centrocampo è un buon centrocampo con Borcavalero, con Perisic, Candreva anche Gio Mario è molto forte, non parlando di Gio Mario non è scarso, è un buon giocatore deve solo trovare la sua collocazione tattica all'interno della squadra e poi c'è Icardi che è il punto di riferimento dell'Inter che è il bomber di razza colui che non si rende pericoloso facendo il reparto però è un giocatore che quando la palla te la butta dentro ti decide la partita Icardi non è uno che gioca bella squadra però è un giocatore molto prolifico segna un sacco di gol e sono questi i giocatori che ti fanno vincere le partite sono i giocatori che ti decidono la partita però non serve un solo giocatore che ti decide le partite ad essere tutta la squadra che nei momenti difficili ti fa la differenza e niente questo video termina qui fra qualche giorno, anzi cerco di portare il più presto possibile e posso partire tra Napoli e Genoa e niente, ci vediamo nel prossimo video e ciao